Ancora soddisfazione per DB Motorsport, la compagine lucchese si conferma infatti ai vertici dei rally storici tricolori, come ribadito a lana sulle strade dell'Alto Piemonte. Nella quinta prova del campionato italiano rally a lana storico, a Biella, Riccardo De Bellis e Cristian Soriani, che disputavano la corsa per la prima volta con la Porsche SCRS Gruppo 4 preparata da Balletti, hanno mantenuto la seconda posizione nel campionato italiano del terzo raggruppamento, al termine di una gara sofferta per motivi meccanici. Tribolata, ma anche sorretta da una reazione d'orgoglio che ha assicurato loro la possibilità di proseguire lo standard tenuto sinora in campionato. Quarti di classe, tredicesimi assoluti, un risultato importante ma che lascia l'amaro in bocca, in quanto per cause meccaniche hanno perso molto terreno, quando poteva invece essere una prestazione da top ten. Prima un testa-coda iniziale ha fatto perdere circa 15 secondi all'equipaggio lucchese, poi durante la terza prova speciale De Bellis e Storiani sono stati pesantemente rallentati dalla rottura di un bilanciere delle valvole, dovendo poi disputare in sì fatte condizioni la successiva prova speciale di circa 20 chilometri per pagare ritardo di oltre due minuti all'assistenza per poter ripristinare il problema. Lo stesso bilanciere si è di nuovo rotto nel finale di gara, fortunatamente nell'ultimo tratto di trasferimento. In totale la coppia lucchese ha perso oltre tre minuti, un fardello senza il quale poteva essere di nuovo un sicuro risultato da podio. Prossimo impegno per De Bellis e Storiani, domenica 16 luglio al 27esimo rally delle Alpi orientali, con l'auspicio stavolta di avere un pizzico di fortuna in più.